Uscire in mare solo dopo essersi accertati del funzionamento dell'imbarcazione e del pieno di carburante, tenere a mente il numero di emergenza 15-30, ma anche avere sotto mano l'elenco dei comportamenti da tenere in caso di pericolo. Queste e tante altre sono le regole base per i diportisti, a cui si aggiungono quelle per i bagnanti, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. A parlarcene il comandante della Capitaneria di Porto di Fano. Parte la stagione estiva, quindi il livello di guardia ovviamente sulle coste si innalza e l'impegno della guardia costiera aumenta conseguentemente nell'ambito di quella che è l'operazione Mare Sicuro, che anche quest'anno il comando generale ha disposto su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i diportisti e i bagnanti, ovviamente si devono attenere a quelle che sono le disposizioni e le ordinanze vigenti e poi devono ottenere delle norme di comportamento e di buon senso, se vogliamo, che sono fondamentali per garantire un'estate serena e sicura. Vogliamo ricordarne alcune, sia per i diportisti che per i bagnanti? Per i diportisti è necessario prendere il mare, essendosi accertati di avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza in relazione al tipo di navigazione che si vuole intraprendere, di avere la quantità di carburante necessaria per la stessa navigazione e soprattutto, cosa anche molto importante, ricordare il numero blu 1530, che è un numero specifico per l'emergenza in mare ed è fondamentale che la segnalazione dell'emergenza in mare venga ricevuta tramite il numero blu 1530 dagli stessi soccorritori, cioè dagli stessi operatori della guardia costiera che poi interverranno. Ci sono anche però dell'attenzione e dell'accortezza particolare per quanto riguarda i bagnanti? Per quanto riguarda i bagnanti, consiglio a tutti di andare a consultare il cosiddetto decalogo del bagnante che il Comando Generale del Corpo pubblica sul proprio sito istituzionale www.guardiacosera.it e riporta dei consigli utili che sono, se vogliamo, anche quelli di buon senso per una sicura fruizione del mare. Qualcuno potrebbe essere non fare il bagno subito dopo aver mangiato, non esporsi troppo tempo al sole. Questi sono i consigli davvero basilari se vogliamo quelli di vivere del buon senso comune.